Si svolgeranno alle 17 di oggi funerali in forma privata di Giulio Andreotti, simbolo dell'ADC deceduto a 94 anni. Fu sette volte a capo del governo, una vita tra potere e misteri. Napolitano lo giudicherà la storia, Berlusconi fu perseguitato dai magistrati come me. L'Italia non è una minaccia per l'Europa, lo dichiara Enrico Letta in un'intervista al Times, mentre dopo la visita in Spagna con Racoi nasce una task force per chiedere a Bruxelles misure concrete contro la crisi e per favorire il lavoro. La disoccupazione può innescare proteste distruttive, Mario Draghi lancia l'allarme ricevendo la laurea honoris cause. Dalla Lewis bisogna risanare i conti tagliando spesa pubblica ma soprattutto tasse. È l'invito che il governatore della BCE rivolge al governo Letta. Intanto l'Inps dichiara finiti i soldi per la cassa integrazione e certifica che in Italia cresce il numero dei senza lavoro. Non c'è prova di presunta ostilità contro Berlusconi. La Cassazione respinge la richiesta del Cavaliere di spostare a Brescia i processi Rubi e Mediaset che così restano a Milano e già sabato dovrebbe arrivare la sentenza d'appello per la presunta frode fiscale che in primo grado ha già visto Berlusconi condannato a quattro anni di carcere. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della Sette. In primo piano la scomparsa di Giulio Andreotti che ha rappresentato 60 anni di vita politica italiana. Sette volte presidente del Consiglio, ministro per ben 26 mandati, simbolo della DC ma anche un uomo discusso che ha diviso il nostro paese. Coinvolto in vari processi, aveva 94 anni, oggi pomeriggio i funerali in forma privata per sua decisione. Un pezzo di storia politica italiana va definitivamente in archivio. Con la morte di Giulio Andreotti, 94 anni, infatti, tramonta il protagonista più importante dal 1946 al 1994, ovvero dalla Costituente alla nascita della cosiddetta Seconda Repubblica. Quattro decenni in cui il divo Giulio, come veniva indicato dai giornalisti e non solo, è stato tutto. Sette volte presidente del Consiglio, decine di volte ministro di quasi tutti i ricasteri. Ha vissuto in prima persona, in prima fila, tutte le stagioni della politica italiana. La fase della ricostruzione, a fianco di Alcide De Gasperi, di cui è stato sottosegretario nel 1948 a soli 28 anni. Poi del boom economico e della nascita del centrosinistra. Così negli anni 70, insieme a Moro, il regista della stagione della solidarietà nazionale e del compromesso storico, negli anni 80 anche nei governi del pentapartito, spesso facendo asse con il PSI di Bettino Craxi. Ma non solo. Andreotti può essere ricordato anche per essere stato plenipotenziario democristiano per il cinema, l'uomo più vicino al Vaticano, il ministro per tutte le stagioni, il super tifoso romanista, la comparsa d'eccezione nei film di Sordi, l'amico degli americani nella vicenda Gladio, il punto di riferimento di Licio Gelli e dei vertici piduisti, l'alfiere della linea della fermezza durante il sequestro a Moro, l'interlocutore del direttore di OP, Mino Pecorelli, e poi il mandante, secondo l'accusa, del suo omicidio. Il senatore a vita, il perno del CAF, alleato con Forlani e Craxi contro Demita e il PDS, il referente degli esattori siciliani Salvo, il capocorrente di Lima e Gioia, accusato da Buscetta e altri pentiti di rapporti con Riina, il max imputato nei processi di Palermo e di Perugia, il candidato perdente contro Marini e per la presidenza del Senato, l'anziano che declinando la sua salute ironizzava comunque i suoi prematuri annunci di morte. Insomma, l'ultimo cavallo di razza, non solo della democrazia cristiana, di cui però non fu mai segretario, il partito Stato di un'Italia che seppe rialzarsi dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e poi sedere al fianco dei grandi della terra. Da tempo però il sipario era calato sulla sua, per molti ancora controversa, personalità politica. Un uomo, come abbiamo visto, che ha diviso il paese, che farà ancora discutere. Sentiamo le reazioni alla sua scomparsa nel mondo politico. Nessuna Camera ardente, né i sequi di Stato. Giulio Andreotti ha voluto funerare in forma strettamente privata che saranno celebrati nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a Roma, a due passi dalla sua abitazione. Per ora l'unico tributo pubblico è quello della Presidente della Camera, Laura Boldrini, con raccoglimento dell'emiciclo di Montecitorio. Gli altri ricordi delle istituzioni sono affidati a comunicati ufficiali. Giorgio Napolitano scrive alla famiglia, riserva alla storia il giudizio sul personaggio. Sulla lunga esperienza di vita di Andreotti e sull'opera da lui prestata in molteplici forme nel più vasto ambito dell'attività politica parlamentare e di governo potranno esprimersi valutazioni approfondite e compiute solo in sede di giudizio storico, dice il Capo dello Stato. Per il Premier Ricoletta, Andreotti è stato protagonista della democrazia italiana sin dalla nascita. Con lui, scrive il Presidente del Consiglio, se ne va un attore di primissimo piano di oltre 60 anni di vita pubblica nazionale. A ricordare quanto Andreotti sia stato al centro delle polemiche per le vicende politiche, ma anche per quelle giudiziarie, è Silvio Berlusconi. Contro la sua persona, la sinistra ha sperimentato una forma di lotta indegna di un paese civile, basata sulla demonizzazione dell'avversario e sulla persecuzione giudiziaria. Un calvario che Andreotti ha superato con dignità e compostezza, uscendone vincitore, scrive il Cavaliere. Quello usato contro di lui è un metodo che conosciamo bene, auspichiamo che agli anni della demonizzazione segua finalmente una pacificazione, di cui il governo appena insediato possa rappresentare il giusto prologo. È stato un leader anche molto discusso nei diversi momenti della sua lunga esperienza politica e per la sua concezione del potere, dice l'ex premier Massimo D'Alema. Tuttavia non si può negare che egli abbia mantenuto aperto il dialogo, anche con forze politiche lontane dal suo pensiero. Ha rappresentato la continuità del ruolo di governo e della centralità politica della democrazia cristiana. Duro il commento via Twitter di Giulia Sarti, Movimento 5 Stelle. È morto Andreotti, condannato prescritto per mafia. Abbiamo bisogno di essere io e... 15 andrebbero ai democratici, 11 al PDL, 2 a scelta civica. Lo stallo provocato dai dubbi PD sui nomi di Nitto Palma, la giustizia e Romani, i lavori pubblici e comunicazioni è stato rimosso in nottata con una soluzione di compromesso. Nitto Palma, ex ministro della giustizia, fedelissimo di Berlusconi, l'avrebbe spuntata sui dubbi democratici, al contrario di Paolo Romani, già titolare del Ministero delle Comunicazioni, costretto al passo indietro. Al suo posto, Altero Matteoli, altro ex ministro di Berlusconi. Occupate le ultime due caselle ancora libere, adesso la strada delle presidenze sembra tutta in discesa. Questa mattina sono previste nuove riunioni, ma per le vicepresidenze. Secondo lo schema finale, Anna Finocchiaro PD andrebbe agli affari costituzionali del Senato, un segnale tra l'altro che la Convenzione per le Riforme sembra ormai destinata a finire nel cassetto. Anche per questo Cicchitto, inizialmente indicato agli esteri, dovrebbe invece finire alla Costituzionali della Camera. Due ex ministri, Damiano e Sacconi, sarebbero i candidati per le commissioni lavoro di Camera e Senato. Casini sarebbe il prossimo presidente di quella esteri di Palazzo Madama. In ballo rimangono le presidenze delle giunte per le autorizzazioni, rivendicate anche dai 5 Stelle che chiedono le presidenze dei cosiddetti organismi di garanzia alle commissioni bicamerali che per prassi vengono attribuite all'opposizione. Ci spettano Vigilanza Rai e Copasir lancia la sfida al capogruppo al Senato Crimi. Per dimostrare di essere l'unica opposizione, i 5 Stelle in Senato stanno adottando una tattica di ostruzionismo con la richiesta ripetuta del numero legale. Grillini che sulla restituzione della diaria avrebbero per la prima volta sconfessato Grillo e Casaleggio. I parlamentari avrebbero votato contro l'indicazione di restituire il non speso lasciando ai singoli la scelta se tenerlo o meno. Parlate di questo solo per screditarci la replica del Movimento. Un'Europa più credibile verso i cittadini è quello che chiedono Italia e Spagna. Ieri l'incontro a Madrid tra i premier Racoy ed Enrico Letta che hanno parlato anche di occupazione, di quell'unione bancaria che la Germania non vede di buon occhio. Unione bancaria e lotta alla disoccupazione giovanile sono le due priorità in primo piano nell'agenda di Mariano Racoy e Enrico Letta. I due leader hanno siglato l'intesa per la creazione di una task force che metta a punto idee per l'occupazione giovanile ma hanno posto l'accento anche sul sistema bancario. Si ha letta che Racoy hanno concordato che deve essere più solido, deve prestare denaro a tassi più bassi a imprese, piccole e medie, hanno spiegato entrambi. Non è possibile che l'Europa decida e nulla di queste decisioni venga poi applicata. Il vertice europeo di giugno deve invece applicarle perché l'Europa sia credibile verso i cittadini. Letta ha spiegato che il risanamento del sistema finanziario non è in antitesi con le politiche di lotta alla disoccupazione. Occhi puntati dunque sull'incontro di giugno, sempre strategico per il futuro dell'Unione piegata dalla crisi economica nel quale dovranno essere varate le misure per il rilancio della crescita e dell'occupazione altrimenti hanno sottolineato il rischio che ci siano conflitti sociali con la vittoria dei partiti anti-europeisti. Delle resto quella di ieri in Spagna, dopo quella in Germania, in Francia ed in Belgio è stata solo l'ultima tappa in ordine di tempo degli incontri che il nostro capo del governo ha avuto con i leader europei in modo da potersi presentare all'appuntamento di giugno con una strategia comune. Piena sintonia con Raoi non solo per rinsaldare i vecchi legami di amicizia tra i due paesi ma anche per trovare un alleato fidato da schierare contro l'intransigenza tedesca che rischia di soffocare la ripresa europea. Lo sanno bene anche gli altri leader del vecchio continente. E il lavoro rimane la vera emergenza in Europa lo ha sottolineato anche il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ieri a Roma e lo confermano i dati Istat cresce il tasso di disoccupazione nel nostro paese mai così alto da 40 anni. È la disoccupazione il male più grave che colpisce l'Europa? A ribadirne l'emergenza ieri durante la sua lexio magistrale in sala Lewis è stato Mario Draghi Per il presidente della Banca Centrale Europea a cui l'Università Romana ha conferito la laurea onoris causa in scienze politiche è in dubbio che una crescita duratura sia essenziale per ridurre la disoccupazione in particolare quella giovanile. E non solo. Per Draghi in molti paesi europei questo problema minaccia le prospettive di vita e rischia di innescare forme di proteste estreme e distruttive. Con l'occasione il numero uno dell'Eurotower ha inviato al governo Letta un messaggio chiaro e forte Bisogna mitigare gli effetti recessivi prodotti da risanamento dei conti privilegiando la riduzione della spesa pubblica e soprattutto delle tasse, ha detto. Insomma, a buon intenditor poche parole. Quanto alla politica monetaria, Draghi ha chiarito che dopo aver portato i tassi al minimi storici dello 0,5% se necessario, la Banca Centrale potrebbe tagliarli ulteriormente. Ma a tornare sull'emergenza disoccupazione ieri da Milano è stato anche il presidente della Consob Vegas nella sua relazione annuale. Il nemico non è più lo spread, ma il lavoro che manca, ha ribadito. Basta con lo spettro dell'austerità senza speranza. Infine, un'altra raffica di dati è arrivata dall'Istat. L'emorragia di posti di lavoro viaggia ben oltre le due cifre e, secondo le previsioni, raggiungerà quota 11,9% nel 2013 e 12,3% nel 2014. Tra marzo e aprile la cassa integrazione è salita di oltre tre punti e quella in deroga necessaria alle piccole aziende in crisi è crollata di oltre il 65%. E non perché ci siano state meno richieste, bensì perché sono i finiti soldi per finanziarle. I processi Rubigate e Mediaset rimangono a Milano. La Corte di Cassazione ieri ha respinto la richiesta avanzata da Silvio Berlusconi di trasferirli a Brescia per legittimo sospetto di parzialità dei magistrati milanesi. Qui tutto può succedere, non vogliono pacificazioni. Questo è il commento lapidario di Berlusconi, dopo che la Cassazione ieri, dopo circa mezz'ora di Camera di Consiglio, ha negato la richiesta dell'ex premier di trasferire i processi da Milano a Brescia, azzerando così il teorema del Cavaliere e dei suoi avvocati che vedono il Palazzo di Giustizia di Milano come pregiudizialmente ostile all'imputato Berlusconi. Per la seconda volta nella storia giudiziaria dell'ex premier crolla la tesi del legittimo sospetto, così come era accaduto nel 2003 nel processo SME. E l'incubo ora riprende per Berlusconi. I processi Mediaset e Rubi, fermi da un mese anche perché a questo serviva il ricorso per Cassazione, ripartono subito. Un'altra ventina di giorni e l'ex premier conoscerà il suo futuro. Già domani è prevista l'udienza in corte d'appello per il primo dei due processi. C'è chi dice che sabato potrebbe arrivare anche la sentenza, mentre nel processo Rubi, che riprende da lunedì 13, mancano le arringhe del PMI da Boccasini e della difesa. Entro fine maggio in ogni caso i giochi dovrebbero essere conclusi e gli avvocati di Berlusconi corrono già ai ripari. Longo annunciato che per il processo sui diritti di V, dove per Berlusconi è già prevista una condanna a quattro anni in primo grado per fraude fiscale con cinque di interdizione dei pubblici uffici, chiederà di aspettare la decisione della consulta sul conflitto sollevato da Palazzo Chigi per un contestato legittimo impedimento che risale al marzo del 2010. In ogni caso, quando sarà pronta la sentenza, la difesa avrebbe in mente anche una nuova strategia per la Cassazione, ovvero quello di ricorrere per una questione di principio alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo. Non si trova l'arma dei delitti di San Nicandro in provincia di Bari. La pistola ha usata presumibilmente dal farmacista 55enne Michele Piccolo per sparare alla moglie Maria, chi menti ai figli Letizia e Claudio, il 3 maggio scorso. Subito dopo Piccolo avrebbe assunto sedativi e sarebbe affogato nella piscina. Le ferite sui corpi sembrano corrispondere al calibro della sua pistola regolarmente registrata. Ieri ci sono state altre quattro ore di sopralluoghi nella villa della strage, perciò oltre all'omicidio suicidio non si possono ancora escludere altre ipotesi investigative, anche perché il movente degli omicidi resta ancora un mistero. Un chiarimento potrebbe arrivare dalle autopsie previste per oggi e dall'analisi dei tabulati telefonici che proseguirà nei prossimi giorni. Ed ora occupiamoci della difficile situazione in Siria. L'ONU smentisce le dichiarazioni di Carla Del Ponte sull'uso delle armi chimiche nel conflitto siriano da parte dei ribelli. Le hanno usate proprio i rivoltosi, aveva detto l'ex procuratrice generale del Tribunale dell'AIA. E gli americani valutano di intervenire per risolvere la crisi. Sentiamo. I raid notturni israeliani contro obiettivi militari in Siria hanno gettato benzina sul dibattito in corso a Washington sull'opportunità di intervento americano per forzare il presidente Bashar al-Assad a lasciare il potere. Ma allo stesso tempo hanno allarmato le Nazioni Unite, l'Unione Europea e anche la Russia che tramite il suo ministro degli esteri, Sergei Lavro, si è detta molto preoccupata. Una preoccupazione che certamente cercherà di miticare oggi il segretario di Stato americano John Kerry quando a Mosca vedrà il presidente russo Putin che ieri ha avuto un colloquio telefonico col presidente israeliano Netanyahu per discutere sulla situazione della regione e in Siria. Kerry domani sarà a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Letta e il ministro degli esteri Emma Bonino. Intanto, secondo una fonte citata dal quotidiano del Kuwait al-Rai Assad ha fatto sapere agli americani tramite i russi che in caso di un altro attacco israeliano considererà quest'azione una dichiarazione di guerra e che in tal caso le batterie missilistiche siriane sono pronte ad aprire il fuoco senza consultare nuovamente la presidenza. Nel frattempo la commissione ONU d'inchiesta sui crimini di guerra in Siria ha chiarito di non avere prove conclusive in grado di determinare l'uso di armi chimiche né da una né dall'altra parte rispondendo così al magistrato svizzero Carla del Ponte membro dello stesso organismo che ieri aveva parlato di testimonianze solo sul possibile uso di gas sarin da parte dei ribelli. Anche gli Stati Uniti hanno detto di non avere al momento alcuna informazione che indichi la capacità o l'intenzione dei ribelli di usare il sarin. E mentre i ribelli annunciano di aver abbattuto nella notte nella regione orientale delle violazioni in Siria, gli uccisi sono 169, tra cui 34 donne e 19 minori. Tre donne rapite negli Stati Uniti tra il 2003 e il 2004 quando erano poco più che adolescenti sono state ritrovate in una casa di Cleveland nell'Ohio, poco lontano dal luogo della loro sparizione. La storia incredibile che tiene banco su tutti i medi americani riguarda Gina DeJesus, 23 anni, Amanda Berry, 26 e Michelle Knight, 30 anni. Nessuno aveva mai pensato che i casi di sparizione potessero essere legati tra loro. Ieri però, mentre il rapitore era fuori casa, Amanda Berry è riuscita a fuggire grazie all'aiuto di un vicino che ha chiamato la polizia, subito intervenuta. Presenti in casa anche due bambini. Il proprietario dell'abitazione è stato arrestato. Si tratta di Ariel Castro, autista di scuola bus, 52 anni, di origine ispanica. E siamo alla pagina sportiva. Appena due giorni dopo la festa a Scudetto della Juventus, si torna a giocare in Serie A con l'anticipo fra Roma e Chievo. Stasera inizia il 36esimo turno che si concluderà domani sera. Settimana intensissima per la Serie A. Fra oggi ed il weekend si scioglieranno molti nodi importanti alle spalle della Juventus campione e soprattutto in coda alla classifica. A dare il via al turno infrasettimanale l'anticipo dell'Olimpico fra Roma e Chievo. Il tecnico giallorosso Andreazzoli prova ad esorcizzare la tradizionale allergia dei suoi giocatori alle sfide con le cosiddette provinciali. La gara lo deve confermare. Ma anche prima del Pescara e prima del Palermo noi avevamo una condizione di questo tipo. Ricordo che eravamo prima di Palermo e eravamo in una condizione mentale ottima perché eravamo usciti da una gara in casa, mi sembra, contro il Parma dove la squadra si era espressa forse una delle volte nel quale ha avuto un'espressione di gioco veramente particolare. Calvanizzato dal successo di Firenze, Andreazzoli vuole convincere la dirigenza della Roma a dargli fiducia anche per il futuro. Futuro che invece per il Chievo si chiama salvezza. Corini vede il traguardo lontano appena un paio di punti. Secondo me il fatto di non aver subito gol contro la Roma è stato qualcosa di importante perché penso che siamo fra le poche squadre di non aver subito gol contro la Roma perché per i giocatori che ha, per il gioco che adottava sia con Zeman che adesso con Andreazzoli, una squadra che ha portato al gioco d'attacco e dunque da questo punto di vista fu una grande prova di compattezza dei miei ragazzi. Domani sera le altre partite. La sfida che vale di più mette di fronte Torino e Genoa rispettivamente quintultimo e quartultimo separati da una sola lunghezza ad un passo dalla zona pericolo della classifica. L'Inter e Lazio misureranno le loro residue chance di rimonta in chiave Europa League. Affrontano trasferte facili sulla carta, Pescara e Siena le duellanti per la terza posizione, Milan e Fiorentina. È tutto per gli aggiornamenti sulle notizie. Vi ricordo il nostro sito in sovraimpressione. Fra poco il meteo con Paolo Sottocorona poi a seguire il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani. Buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.